Trieste e di Gorizia invece sono stati riconfermati quasi 70 operatori socio-sanitari di Asugi il cui contratto a termine era in scadenza proprio in questi giorni. Sebastiano Franco. I sindacati incassano la proroga del contratto fino al 31 dicembre per 69 operatori sanitari a tempo determinato. Un primo passo, ma ora CISL, CGL e FIALS chiedono di utilizzare le graduatorie già presenti per nuove assunzioni di infermieri e os e puntano alla stabilizzazione di questi 69 precari. Abbiamo chiesto anche la stabilizzazione perché nel frattempo tutti questi colleghi avranno la possibilità di essere stabilizzati perché maturano i requisiti previsti sia dalla legge Madia e sia dal decreto per il Covid. In prefettura a Trieste con i sindacati e il direttore sanitario di Asugi Poggiana non c'era la regione perché, fa sapere l'assessore alla sanità Riccardi, tutto era già stato risolto sbloccando la revisione del limite di spesa di Asugi. 10 milioni di euro il costo previsto per le deroghe contrattuali. Un primo passo, secondo i sindacati, che rivendicano l'importanza della loro battaglia. Nei prossimi mesi sono circa 350 i contratti a tempo determinato in scadenza, per i quali CGL, CISL e FIALS chiederanno altre proroghe.